In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.334 positività al Covid-19 e rispetto a ieri si registra un nuovo caso. 17 pazienti, invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, zero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 102, meno uno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 468 pazienti deceduti, dato invariato rispetto a ieri, 2747 dimessi guariti più 2 rispetto a ieri di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid sono diventati asintomatici e 2735 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 119 con una diminuzione di una unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 117.780 test del totale dei casi positivi, 244 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 828 in provincia di Chieti, più uno rispetto a ieri, 1599 in provincia di Pescara, 635 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per due casi non è indicata la provenienza.